Pronti, partenza, via! Bene ragazzi, festeggiamo il comprano di Giulia e la potere nascita nel bimbo di Tony e Anna. Salute! Le ultime notizie. La compagnia chimica Acmesa ha annunciato che a seguito di un incidente ad un reattore, una vasta lume di triclorofenolo si starebbe propagata sul territorio di Seveso. Non credete sarebbe meglio sbucciare queste mele prima di mangiarle? Ragazzi, non mangiate quelle mele! Gli animali stanno morendo uno dopo l'altro. Chi credi che saranno i prossimi? Le persone. Saresti dovuta diventare una madre stupenda. More al destino ti costringe a fare la più terribile delle scelte. Il sistema immunitario dei bambini che vivono in una zona A si è deteriorato. Potremmo incontrare la legge amare. Voi sapevate la verità, ma avete taciuto per proteggere i vostri interessi. Questo lo chiamo un crimine. Queste persone hanno già sofferto anche troppo. Scusatevi con seveso! Scusatevi con seveso! Grazie a tutti. Grazie a tutti.